Il vicepresidente del senato che offende con un insulto razzista scimmia un ministro. Il leghista Roberto Calderoli, come riporta stamattina il Corriere della Sera, ieri in un comizio a Treviglio vicino a Bergamo, ha insultato così Cecil Kienge, ministro dell'integrazione in quota PD. Fa bene a fare il ministro, ma forse lo dovrebbe fare nel suo paese. E' anche lei a far sognare l'America a tanti clandestini che arrivano qui. Quando vedo le immagini della Kienge non posso non pensare, anche se non dico che lo sia, alle sembianze di un orango. Una frase del Calderoli vecchio stile, come quando nel 2006 si era presentato in tv con la maglietta con le vignette anti-Islam o aveva offeso la giornalista palestinese Rula Jebreal, l'aveva chiamata abbronzata o aveva portato un maiale a passeggiare sul terreno di una moschea per sconsacrarlo. L'insulto alla Kienge ha scatenato un moto di indignazione, non solo dentro il PD che chiede un chiarimento in Senato, ma anche dentro il governo. E' stato il premier Letta con un tweet a condannare il vicepresidente del Senato. Le parole, riportate oggi da organi di stampa e attribuite al senatore Calderoli nei confronti di Cecil Kienge, sono inaccettabili oltre ogni limite, piena solidarietà e sostegno a Cecil. Dopo mezzogiorno Calderoli ha rilasciato una breve dichiarazione all'agenzia ANSA, un tentativo di spiegazione e di scuse. Calderoli ha argomentato così, ho parlato in un comizio, ho fatto una battuta, magari infelice ma da comizio, questo è stato subito chiaro a tutti i presenti, non volevo offendere e se il ministro Kienge si è offesa me ne scuso, ma la mia battuta si è inserita in un ben più articolato e politico intervento di critica al ministro e alla sua politica. Il ministro Kienge ha replicato, non si tratta di una battuta infelice ma di come chi siede nelle istituzioni deve curare il linguaggio. Non mi esprimo sulla richiesta di dimissioni, chiedo solo che Calderoli tragga da solo col suo partito le conseguenze. Il presidente del senato Grasso ha commentato, non ci sono giustificazioni possibili alle offese di Calderoli, mi auguro che si scusi ufficialmente e pubblicamente al più presto. È intervenuta anche la presidente della camera Boldrini, da Calderoli parole volgarie e incivili indegne per le istituzioni. Non è il primo attacco di matrice razzista della lega al ministro Kienge. Meno di un mese fa una consigliera di zona a Padova, Dolores Valandro, è stata espulsa dal partito dopo che aveva scritto su Facebook. Nessuno stupra la Kienge? Anche il parlamentare europeo Mario Borghezio era stato cacciato dal gruppo euroscettico di Strasburgo dopo le frasi contro la Kienge. Questo è un governo del bonga bonga, mi sembrava una brava casalinga, non un ministro del governo. Non ha più cariche dentro il partito ma è stato uno dei fondatori Erminio Boso che ha detto sono razzista, Kienge deve stare a casa sua in Congo. Il segretario della lega Maroni finora non ha commentato ma uno dei parlamentari più vicini al governatore Lombardo Gianluca Pini sempre su Twitter ha scritto una battuta di pessimo gusto quella di Calderoli ma lasciamo perdere le dimissioni. Calderoli poco fa ha riparlato all'agenzia ANSA. Nessun accenno alle dimissioni, ecco cosa ha detto. Per farmi perdonare dal ministro Kienge la ho invito ufficialmente a un dibattito alla Bergenfest. A Bergamo pochi giorni fa la Kienge era stata contestata dai militanti leghisti. questo è il ministro della Repubblica, questo è il ministro della Repubblica.